Il Viminale vuole introdurre lo Ius Soli ma voi dite che è soltanto un cavallo di Troia, perché? Perché il tutto parte dai paroli di un sottosegretario del Ministero dell'Interno il quale praticamente presenta la possibilità attraverso una circolare di dare direttamente la cittadinanza ai figli di rifugiati, una circolare che dovrebbe partire dal Ministero dell'Interno quindi per cui dal punto di vista giuridico, dal nostro punto di vista, è una cosa che non sta nel cielo e nell'interno ed è una cosa assolutamente irregolare. Detto questo, noi vogliamo però capire attraverso un'interrogazione dal Ministero dell'Interno che prima o poi comparirà nell'Aula del Parlamento, visto che è tanto tempo che chiediamo la sua presenza se le parole del sottosegretario sono confermate da un indirizzo politico-amministrativo del Ministero competente, per cui del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano se Angelino Alfano dopo aver abrogato il reatto di clandestinità ha anche intenzione di introdurre lo Ius Soli in questo Paese, credo che visto che il Partito Democratico deve decidere chi sarà il futuro Presidente l'ha trovato e sarà Angelino Alfano.